Avete già pensato di aumentare la vostra immunità con dei micronutrienti specifici? In tempi come questi e soprattutto con l'età, con la stagione invernale che va avanti, ho pensato di parlare appunto di micronutrienti per l'immunità perché è una cosa che può essere utile a tutti ed in particolare alle persone a genere. Noi abbiamo due tipi di immunità, un'immunità innata che abbiamo dalla nascita e un'immunità acquisita che ci facciamo strada facendo. Entrambe strutturano delle cellule memoria che all'arrivo dell'agente patogeno servono per appunto bloccarla. La risposta immunitaria è una risposta fisiologica ad un'infiammazione, infiammazione che è di per sé stessa una fisiologica. Prendiamo, purché di breve durata, prendiamo per esempio i bambini, quando cresce la febbre di qualche grado le mamme si preoccupano subito. In realtà vuol dire che il bambino sta bene, che il bambino reagisce ed è sano. Uno dei principali protagonisti dell'immunità è la vitamina D o colecalciferolo, la vitamina D3, che hanno tutti i mammiferi. E poi c'è la vitamina D2, l'ergocalciferolo, che viene sintetizzato attraverso la luce ultravioletta dall'ergosterolo. Entrambe, per poter esercitare la loro funzione, devono essere attivate nel fegato e neri. La prima è sicuramente più potente ed è considerata un ormone perché viene sintetizzata a partire dal colesterolo. Nella dieta ce n'è assolutamente pochissima. Noi la conosciamo per l'ossificazione, ma anche il ruolo per l'immunità è molto importante. Mentre normalmente per il metabolismo osseo ne viene consigliato a uno o due dosi al mese, per l'immunità ci sono degli studi del British Medical Journal su 11.000 pazienti. Si è visto che dando una somministrazione di 1.000 o 2.000 unità internazionali al giorno, viene significativamente ridotta il rischio e vengono ridotte le patologie polmonari. Viene normalmente associata alla vitamina K2, che serve per ottimizzare l'assorbimento e il metabolismo. Qualora pensaste di utilizzarla, chiedete comunque sempre al vostro medico, che stabilirà se il dosaggio è la reale efficacia per voi. Entrambe, sia la vitamina D e la K2 associata, intervengono nei processi che fortificano l'immunità innata e quella acquisita. E stimolano delle proteine che si chiamano difensive. E poi parliamo del microbiota intestinale. Il microbiota che è formato da mille specie batteriche, per un totale di circa 100 miliardi di batteri. una specie di condominio, i cui rapporti sono estremamente complessi, ma assolutamente vitali per la nostra salute. Infatti, sono tanti anni che si parla di che se l'intestino funziona, funziona tutto l'organismo, ma solo da qualche anno che si sono approfonditi i rapporti che legano tutti questi batteri. Quindi noi siamo abitati da tantissimi batteri. Una supplementazione di bifidobatteri potrebbe essere utile in questo periodo. I bambini, anzi o meglio i neonati, hanno bifidobatteri in quantità, poi si perdono strada facendo. E quindi con un'immunità alterata una supplementazione potrebbe essere assolutamente utile. Perché i bifidobatteri producono delle sostanze polisaccali, proteine, che sono immunomodulatori e producono anche delle altre sostanze che nutrono proprio i ceppi batterici. Sicuramente un microbiota efficiente condiziona quello che si richiama un invecchiamento di successo e sicuramente una varietà e una vivacità del microbiota consente un'ottima immunosenescenza. Il microbiota viene nutrito anche dal cibo che noi introduciamo, anzi, io sostengo da tanto tempo che dovremmo cercare di uscire dalla mentalità antropocentrica secondo cui noi mangiamo sicuramente quello che ci fa piacere, ma dovremmo anche pensare di dare nutrimento a tutti questi batteri perché è da loro che dipende la nostra salute. Poi parliamo dei polifenoli, fenoli che sono veramente migliaia le specie di polifenoli e sono delle molecole che regolano l'infiammazione, il metabolismo cellulare e le proliferazioni cellulari. Le aiutano ma anche bloccano le proliferazioni cellulari anomale. Attivano i mitocondri e le vie di segnale che migliorano proprio la risposta immunitaria. Sono proprio dei facilitatori ed intervengono in maniera molto significativa sulla qualità del nostro invecchiamento. Il più noto di tutti è il resveratrolo. Sono stati fatti degli studi, è uno studio molto carino, in cui c'è scritto appunto che viene fatto su due abitanti di Firenze. Ragionevolmente io credo che abbiano preso due abitanti del Chianti perché si parla di uva e si parla di vino e hanno visto che per raggiungere il dosaggio di 500 milligrammi al giorno dovevano, queste due persone, dovevano utilizzare 50 litri di vino con effetti collaterali evidenti. Quindi è molto meglio ricorrere al poligonum cuspidatum la cui radice contiene 400 volte il quantitativo che sta in un litro di vino. E perché è importante? Perché aumentano, il resveratrolo aumenta le facoltà cognitive, le funzioni cognitive, diminuisce la degenerazione cerebrale e diminuisce veramente in maniera significativa il rischio di mortalità per le malattie. Un altro integratore che mi piace molto perché durante l'anno io lo utilizzo a vari cicli, sono gli Omega 3. Omega 3 che nel caso decideste di prendere, controllate sempre che abbiano le 5 certificazioni IFOS o AIFOS che dir si voglia perché ne garantiscono la purezza e nella ragione di 2,5 grammi forzano le reazioni fisiologiche verso veramente una situazione di benessere. Sono dei potenti antinfiammatori e producono delle sostanze che si chiamano risolvine, maresine, protettine che spengono l'infiammazione polmonare. Vengono utilizzati molto dagli sportivi. Perché? Perché soprattutto negli sportivi, ad esempio i maratoneti, quelli che fanno sforzi molto intensi, maratoneti, triatleti. Che cosa succede? Che quando ci sono delle gare molto impegnative, allenamenti molto impegnativi, così come persone che lavorano fisicamente in maniera molto intensa, se lo sforzo supera un certo grado, il giorno dopo è garantito che queste persone abbiano, oltre ad essere tutti scocciati, abbiano veramente la febbre alta. E questo praticamente è la reazione fisiologica del corpo alla fatica. Gli omega 3 possono aiutare a spegnere appunto questo tipo di infiammazione. Chi ama i minerali può utilizzare lo zinco, che contrasta l'invecchiamento e stimola l'attività del team. La vitamina C poi è nota a tutti. Si può utilizzare, diciamo, come prevenzione, non è proprio consigliatissima, ma sicuramente ha la funzione importante di, ecco, sostiene forse un po' l'immunità innata, ma ha la funzione di spegnere tutte le reazioni spiacevoli del raffreddore. Poi ci sono delle sostanze che fino a dieci anni fa non erano salite alla ribalta, che sono i beta-glucani. Beta-glucani di cui sono ricchi dei funghi, il reishi, il maitake e lo shitake, che sono veramente un regalo della natura per le proprietà meravigliose che hanno. Ma noi li possiamo trovare anche nei lieviti, in alcune alghe, in alcuni cereali tipo la crusca e l'orzo. E qual è la loro funzione? Hanno un'azione potentemente immunomodulante e stimolano dei corpuscoli che si chiamano macrofagi, che inglobano e uccidono parassiti, virus, funghi, batteri. Quindi in qualche modo si tratta con tutti questi micronutrienti o scegliendone qualcuno di questi di allenare proprio la nostra immunità, allenare il corpo a reagire, potenziare proprio le difese del nostro corpo. Ora, io spero di esservi stata utile. Queste informazioni sicuramente molti addetti le conoscono. Però ecco, spero di aver dato degli spunti utili a chi appunto non le conosce. Questo sempre nello spirito di condivisione che anima queste pillole. Per qualsiasi informazione o chiarimento mi potete contattare o su Facebook o su Messenger e sarò felice di rispondervi. A presto! Grazie a tutti!